E buonasera a tutti ragazzi eccoci di nuovo qui con un altro video dello shop di oggi 28 agosto come solito vi dico iscrivetevi lasciate like e lasciate un pollicione e attivate la campanella per essere aggiornati all'uscita dei video e del short e dell'enario ragazzi non costa niente lascia like un commento e iscrivetevi al canale mi raccomando iscrivetevi e spollicciate al video dei shop ed internazioni andiamo subito in negozi e nello shop è tornato a bando di barbie scherito inferno con i suoi accessori stile lego dorso articolativo e la schermata di caricamento no la schermata che non tracceggiamo scusate poi c'è barbie scherito infernale sono stile lego e su zainetto e poi c'è solo la traccia quando giurassico j ci sono due stili si leggo il dorso articolativo il piccone metaplano il balletto che fa click click flash solido shock una emote e una emote furia fossi poi c'è solo la skin e click click flash tavolo bar e letto percursori e ancora c'è bando ero speeder spider o pronuncio sempre male scusate poi c'è solo aerospider c'è la chitarra di aerospider ha avranno tasteggiata e teoria spider niente ancora c'è bando di ariana grande cosmonauta gli stili due sono e poi c'è valio astronauta e questo due stili color diversi poi c'è si leggo e dorso decorativo il piccone il piccone e il dataplano ariana grande cosmonauta sempre in due stili no uno stile solo qua o due no due due ragazzi si leggo e solo solo il dorso decorativo processo il piccone l'età plano e il dorso decorativo dietro ragazzi ariana grande ariana della dea finitura rosa della finitura rosa due stili corrispia si e no si rilevo fiocco venditura e trasferiamo poi c'è solo skin e trasferiamo lady gaga dettagli non ne ha il balletto suo chitarra microfono e la trattata sito seggiano poi c'è solo lady gaga la sua chitarra microfono cromatico il balletto e stupido l'over capitano america signore stile devo da sotto e coltivo e piccone poi c'è solo questo bando qui tutto insieme solo la skin stella docente braccio lucente capitale america sam wilson bando del la chitarra dataplano è tutto il bando questo con piccoli dorso decorativo depur del penino e chierino e poi c'è volvere il pendino e clean e china set core di volvere e volvere astro carico e giocato e poi la chitarra ancora c'è il bando di carro j g vedete questo è suo tutto suo balletti poi c'è la canzone occhi d'occhi è tornato b tornato mida quando nel re dorato mila mila ascendente che io ce l'ho ci sono due stili poi materiale tiro siano stile lego e mantello che è sua poi c'è solo questo sono i dati scendere ma io tocco d'oro e a scena dorata divergente il tablano taglionetto braggio e vince brems e nuovo balletto novità cacciatore dei cieli ascia e ascia a il bando campione sul campo poi c'è il registro comporso finanziare filo di brin tricene dinamica costatrice clinica spazio convinto maestro del centrocampo attaccante in minaccia aria goleana da plano tacchetto elite e verzo e la caso dei balletti zed art e tipo bandoliera e tipico bando samurai le auto turbo seno splash asciazione visto il e propulsore eterea poi c'è ancora il bando il bambu ragazzi con sui adesivi e le sue gomme qua sono tutte tracce già poi c'è lama del drago john e di box passo laterale scacco matto e poi c'è farsi per la stagione ancora le di caro l'acchio di settembre per essere ragazzi forno il pacchetto guardia nella galassia 28 99 poi c'è forno il pacchetto edite dorate 17 25 forno il pacchetto in canale di pc per le loggei 9 99 pacchetto marvel pacchetto legata andrei guerrieri 28 99 con tutto il set forno il pacchetto sulle scaglie 4 49 e forno il pacchetto di morisci a fu luce 18 50 niente ragazzi questo è lo shop di di 27 agosto niente ragazzi niente come solito vi dico iscrivetevi e lasciate like al canale non costa niente attivata campanellina per se giornate riuscite dei video short e live e niente ragazzi il video secondo video shop ci vediamo domani con altro video shop e se avete lasciate like e commentate sotto con le pesate di questo shop di oggi ragazzi buonanotte a tutti un saluto da zio che sono stati di cliccare coppia ci vediamo a presto con a domani con altro video l'altro video e a presto buonanotte a tutti gg ciao belli